Lavoro in corso sulla manovra per riallacciare il dialogo con Bruxelles. La Commissione dell'Unione Europea chiede di limitare la spesa pubblica. Il governo lavora alla rimodulazione delle due misure più attese, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Tra le ipotesi l'introduzione del divieto di cumulo per i neopensionati per un arco di tempo fino a 5 anni. Il reddito di cittadinanza potrebbe slittare ma al momento si registra la contrarietà dei 5 Stelle. Stamattina Conte ha visto i rappresentanti del gruppo misto. Il premio era confermato l'intenzione di spostare una parte della spesa sugli investimenti. Il decreto sicurezza sarà approvato tra oggi e domani e sarà una rivoluzione. Matteo Salvini vede vicino il traguardo per il provvedimento bandiera della Lega. Questa mattina il ministro ha inaugurato l'anno accademico della scuola di perfezionamento della polizia e agli uomini e alle donne in divisa ha assicurato che le nuove norme porteranno più sicurezza alle città, più potere ai sindaci, stroncheranno il business dell'immigrazione clandestina e aumenteranno i poteri della lotta antimafia e antiracket. Procedure più semplici per la pubblica amministrazione che si interfaccia con le imprese e con i cittadini. Questo è il tema del seminario su innovazione e semplificazione organizzato dall'Istituto per la Competitività. Per Francesco Nonno di Open Fiber è necessario lavorare sulla standardizzazione dei dati. Il sottosegretario Mattia Fantinati ricorda che il governo è in campo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ogni procedura sarà possibile direttamente dalla scrivania, assicura Fantinati. Digitalizzazione e privacy, protezione dei dati, governance, semplificazioni. Ne hanno discusso i professionisti del settore al workshop organizzato da Anarch Professioni in collaborazione con Banca d'Italia. Al convegno è intervenuto anche Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Per cambiare la pubblica amministrazione servono tempo e nuove competenze e tutti devono remare nella stessa direzione. La politica in primis è la ricetta illustrata dal commissario. Farsi attraversare dal grido dell'umanità ferita, guardare ai poveri a tutte le forme di povertà, lo chiede il presidente della CEI Gualtiero Bassetti in una lettera pubblicata nel numero di dicembre di vita pastorale, anticipata al SIR. Le logiche perverse dell'esclusione sociale miettono vittime in molti modi, esuberi nell'ambito lavorativo, clandestini nel campo delle migrazioni, scarti nel settore economico. Bisogna fare un passo ulteriore, spiega Bassetti, non basta il soccorso sul momento.